salve figlioli in minecraft italia bentornati in questo hunger games con alessio2405 mi sei bagata la schermata per un attimo alessio non parla che ho dato fuoco a uno perché sono bastardo ti rendi conto che c'era solo una zuppa di funghi che cazzo me ne faccio non sono io a messo di tutto indietro così ti busto avanti poi io ma questo corre più veloce in me in acqua e scusa stiamo andando non te lo busto è però grazie amico quando la spada gli spaccola vale vai avanti avanti che ti busto poi questo tardo di merda aia il coglione la sua colpizia ma la profondazione costa di costa di costa di costa di costa di costa di vai vai costa di costa e non ci arrivo no vabbè ma quanto cazzo di vita c'ha un cuore cazzo ma questo è un coglione dai non sa niente comunque dovremmo dire settimana scorsa appunto che non ci siamo stati ma sono dettagli poi vi spiegheremo tutto in caso ce lo chiederete però io devo anche dire devo fare una tra virgolette critica veramente perché allora cioè io non so perché di preciso vorrei anche cercare di capirlo in qualche modo da parte per se qualcuno dirà sì ma sono le figlie di youtube che hanno un po di problemi che poi non sono problemi però sono che hanno riorganizzato il metodo di uscita vabbè si insomma youtube è la merda qualcuno potrebbe dire quello però c'è il fatto che anche quelli che guardano il video c'è veramente in pochi che interagiscono ed è una cosa che io non riesco a capire perché se state guardando il video probabilmente quel contenuto l'avete ottenuto in qualche certo ottenuto inteso siete arrivati a guardare in qualche modo cioè non è che non me ne frega un cazzo guardate il video a caso ad eccezioni di un po che perché ci capita l'utente casuale quello può starci però c'è veramente c'è stra poca interazione con con voi a noi piacerebbe avere anche dei commenti anche dei feedback feedback inteso e se piacciono al nostro lavoro vuol dire per chi non lo sapesse nel senso noi vi diamo delle cose per cui se vedete anche sotto i commenti di tutti i video qui su minecraft italia rispondiamo sempre ma il punto è che magari a voi che non interessano gli anger games però noi rispondiamo tutti i commenti ma infatti di commenti ne abbiamo tantissimi sotto i video cioè io una media di commenti che ho sotto i video è sui 150 per dire sono tanti cioè in teoria quindi capiamoci cioè noi vorremmo tentare anche di capire magari cos'è che non vi piace allora partiamo da un presupposto se non vi piacciono gli sg vabbè non vi piacerà mai probabilmente questa serie visto che effettivamente non posso neanche darvi torto effettivamente si basa praticamente su questo quindi quel caso vi posso anche dare ragione però a chi ad esempio magari piacciono però non apprezzo a questa serie si può anche dirci qualche motivo perché il primo che dice perché fate team vorrei solo ricordare che effettivamente praticamente lui siamo una persona sola per quanto riguarda la nostra partecipazione al canale minecraft italia cioè non per quanto riguarda il canale per quanto riguarda la scaletta settimanale perché se ci fossero posti potremmo fare magari anche serie separate però inteso ora come ora in questa serie rappresentiamo una persona singola praticamente quindi poi già noi di per dire per conto nostro sui nostri canali questa serie l'abbiamo iniziata insieme quindi non ha senso no non ti busto non ti busto si ok ti busto non non ha senso portarla da soli cioè alessio lo fa e anche ogni tanto lo faccio mi capita di portare il video da solo degli anger games solo che nel senso è una serie che è partita però se devo dire la verità cioè mi diverto anche a reccarlo però ti diverti uno di più a reccarlo in due ammetto che ok c'è la gente che dice sì però quelli che ti ma non sono nabbi robe del genere però fidatevi che io non gioco mai in team quando non sto registrando e fidatevi che c'è un tipo va bene se volete vedere qualcuno forte e forte non forte beccatelo da solo ma ha rispetto un attimo guardate aperto non lo chiede sono io che sono scarso con le frecce però lo chiediamo ma sono morto e mi sta lagando sono morto sono morto sono morto su mezzo cuore albi io mi sono accorto dopo effettivamente di avere un cazzo di armone quello li ha preso tutto è scappato non si spaccola testa non usare però io sto anche attento un attimo per non ci seguono per se non mi apre la testa col primo c'è un pingo poco busto tutti a fare in culo passami avanti passami avanti passami avanti non vuole farmi qualche trick assurdo con l'acciarino cos'è o non ce la fa a fare un trick assurdo con la cerchina cos'è che è morto albi chiudilo bravo no ma toccalo si ok mi ha dato unito un po' in over però un po' un po' lontano come dite ce li hai pantaloni? tieni i pantaloni in ferro? non ce li ho ma tieni te non li hai coglioni ma tieni ne tu coglioni così almeno siamo pari con l'armatura ma che cazzo me ne fredda ma sei scemo ma io sono alle 45 sono troppo forti no comunque quello che vi sta facendo cioè io ad esempio quando gioco da solo sì quando non non timo sì che cazzo sto dicendo un per tre quando non registro io non timo e gioco da solo ma c'è un coglione e l'ho visto arrivare così al volo me ne sono accorto dopo come ha fatto a darmi il fuoco bam madonna c'è vedete che alessi comunque non l'ho visto albi c'è un altro coglione albi sono morto scappa c'è un altro coglione non ho proprio cuori perché il tizio mi ha preso in strafe albi non andarci il fuoco no vabbè se gli fai spegcare le freccelle comunque guardate che c'è per farvi capire fuck mi è partito il mouse a caso c'ho c'è io c'ho una serie dove gioco da solo quindi se volete vedere giocate tra virgolette serie guardate quelle qua giochiamo anche per divertirci se devo proprio dire la verità c'è anche un po' per cazzeggio perché non sto lì a guardare chi ma cazzo così c'è ma l'oro mi si è spostato tutto per l'effetto ma quanto mi è laggato pathetic non iniziare anche tu l'abbiamo appena spiegato cane guardati il video no vabbè ma c'è qua effettivamente ci stava cioè nel senso dal lato del player c'è trovato il 2v1 si vabbè ma che cazzo c'è ma sai quante volte mi sono trovato in team al deathmatch su sta mappa mi sono tirato fuori albi testimone che una volta è successa una cosa assurda veramente cioè che ho perduto 2v2 aspettate qua provo a trollarlo ma c'hai una roba aspetta le vieni qua un attimo c'hai la spada un po' OP si ce l'ho già in spada ok me la faccio in diamante perché sono più forte 6 io non ho le frecce però vabbè niente frecce tu sai 3,2,1 go motherfuckers madonna madonna il ping si fa sentire eh ma era anche il ping assurdo eh comunque avevi anche il corpettino ferro eh era proprio ah allora e me lo ho detto prima vabbè lasciamo perdere queste cose comunque ragazzi vi abbiamo un po' spiegato qual è la situazione comunque qui perché non ci date tanto come dire supporto nei commenti comunque noi continueremo questa serie lo stesso almeno magari ve la faremo piacere prima o poi dateci dei consigli per quelli che magari possono dare consigli e vogliono dare consigli eh qualsiasi cosa potete chiederci anche le challenge sugli HG o anche da qualche altra parte l'importante è che ci dite qualcosa a Grazie a tutti.